Negli ultimi mesi sono stati numerosi furti segnalati all'interno dei cimiteri della Piana, ad essere colpiti in particolare vasi a rede in bronzo e rame. Gli ultimi casi hanno riguardato il cimitero di Porcari, quello dell'Arancio, e quello di Altopascio. Proprio ad Altopascio, nel bando di aggiudicazione dei servizi cimiteriali, è stata inserita la specifica voce riguardo la videosorveglianza e il servizio di guardiania. La cooperativa Samarcanda, che si è aggiudicata alla gara, dovrà dunque occuparsi dei sistemi di sorveglianza oltre agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione delle zone comuni dei cimiteri comunali. Fra questi interventi c'è la videosorveglianza dei quattro cimiteri comunali, il rifacimento dei bagni che, come è evidente, hanno bisogno di una manutenzione straordinaria, ma anche di manutenzioni più straordinarie, dei vialetti e dei loculi e di tutto quello che sono gli spazi comuni all'interno dei cimiteri. Un discorso a parte, invece, per quanto riguarda i numerosi cedimenti che interessano il cimitero del capoluogo, sia nella zona vecchia che in quella nuova, e che riguardano anche sepolture relativamente recenti. In questo caso, le opere di manutenzione spetterebbero ai congiunti del defunto, che spesso però risultano irreperibili, una problematica che rischia di diventare pericolosa sotto il profilo socio-sanitario nel caso in cui i cedimenti dovessero interessare anche le bare, oltre che la copertura in terra su cui poggiano le lapidi.